buongiorno oggi sono solo quindi farò anche più in fretta a rispettare i soliti dieci minuti cioè i soliti ma i soliti e niente altra volta vabbè cambiato la skin però avevo già accennato al fatto che ho preso il premio c'è un altro e niente andiamo proprio allo sbaraglio tentando di trovare qualcosa già lagga che mi guarda in modo un po cattivo andiamo su ma perché lagga così quanto l'odio questo server mi raccomando magari se qualcuno ha anche amaci così cioè si amaci con minecraft se amachi può venire nel mio server non questo che lagga lievemente di meno poi al massimo vi metterò l'ip in descrizione purtroppo l'ip cioè avrei preferito il 9 pimo a quanto pare vediamo se troviamo qualcosa qui oddio quanta lagga secondo voi dove sarà quella fantastica stanzetta no dai proprio qui c'era il boss della cosa quindi non è qua per forza ci sono due aia 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 Mi domando perché gli zombie hanno la testa di uno scheletro Cioè Questa potrebbe essere una domanda interessante No? Perché? Abbiamo qui il nostro Boss della mafia russa Super lagata Bacch Qua che cosa c'è? Qualche scheletro Ah dai letti Da quando sono così silenziosi? Ecco Lagga assurda Mi potevano anche killare Nel frattempo C'ha due chestplate in diamante Più gli stivaletti Tutto il set mi faccio Adesso che non c'è Willy no? Super drop Così Così Oh mio dio Il mini skillet Toh Ma crepate Ecco Ovviamente mi spawna Da questo bellissimo posto Aia Alla fine sono già quasi finiti i 10 minuti Io non ho fatto Assolutamente niente Ecco Ecco Neanche mi guardo attorno Quanto quello lì mi colpisce anche da fermo Cioè Cosa c'è qui? Boh Chi lo so Andiamo qua Addirittura Mettiamoci dentro questo Addirittura Ok Qua Casse dappertutto qui Questa qui non ci può aprire Che scatola Perché fanno le casse che non ci possono aprire Adesso io come che la apro C'è qui C'è qui C'è qui Chest plate Me l'ha dorato Questo potrebbe essere interessante Fanno le ceste che non ci possono aprire Però io sono curioso Ostia E quindi la voglio aprire lo stesso Mori Non c'è dentro niente Il bello che in console non si vede che Si autosetta sempre La notte Cioè Adesso si capisce come mai Non si raggiunge mai il giorno Ma perché entro? Cioè quelle sono le domande Veramente importanti Ovviamente qua non è vuoto Qualcosa comparirà E invece no È stranamente Molto molto stranamente vuoto Dei letti Così Così Non hanno niente da fare Metti angio dei letti Perché no? Bah 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 Niente che fanno Faccio qualcosa C'è qualcuno? Oh mio dio un ender one Ma perché entro Oh Ma per Oh Perché entro Un altro enderman È proprio Un'epidemia di enderman Oh mio dio Entro qui Tanto mi prendo lo stesso Niente Niente Sono quasi finiti i minuti Quindi Chi lo vuole Sto in pratica Ma muori 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 Adesso muori Ma perché vai sotto terra? Ma chi ti ha dato il promesso? Niente Entriamo qua C'è niente Ovviamente Non c'è niente Niente A questo punto io Mi metto qua in centro Così quando Quando Riprendono Mi chillano subito Ecco E vi lascio Addio Cioè Alla prossima puntata Si spera E Ciao ciao C'è niente